Trattare la psoriasi, 6 creme naturali. Per ottenere i migliori risultati per combattere la psoriasi e calmarne i sintomi, conviene combinare un'alimentazione adeguata con trattamenti topici. La psoriasi è una malattia cronica della pelle, tra i suoi sintomi più evidenti troviamo accumulo di pelle morta, arrossamento ed esquamazione. In questo articolo vi parliamo delle migliori creme naturali per trattare la psoriasi. Cos'è la psoriasi e perché si presenta? Si tratta di una malattia infiammatoria e cronica della pelle che produce lesioni. Non è contagiosa, ma può essere ereditaria ed è più frequente negli uomini che nelle donne. La psoriasi compare soprattutto sulla schiena, sull'addome, sul cuoio capelluto, sulle ginocchia e sui gomiti. Può svilupparsi a qualsiasi età anche se è più comune negli adulti di età compresa tra i 20 e i 55 anni. Di solito comincia in forma lieve ed è di origine autoimmune. I fattori scatenanti della psoriasi possono essere vari, infezioni, dieta e consumo di alcol, disturbi emotivi, fattori climatici, problemi endocrini. La dieta è fondamentale per migliorare e trattare la psoriasi. La nostra alimentazione quotidiana deve essere composta da verdura, frutta, avena, fagioli, salmone o sgombro. Due volte alla settimana, nel caso in cui non si mangi pesce, si può optare per l'olio o i semi di lino. Inoltre, è molto importante bere, come minimo, un bicchiere d'acqua ogni due ore per aiutare l'organismo ad eliminare le tossine che provocano l'infiammazione. Evitate pasti a base di pollo, carne rossa e latticini perché contengono proteine difficilmente digeribili per il fegato. Sono ugualmente sconsigliati i cibi da fast food, gli zuccheri e le fritture. Creme naturali per trattare la psoriasi Ebbene sapere che per tale condizione non esiste una cura definitiva, si può comunque cercare di ridurre i sintomi o alleviare la desquamazione della pelle. Per questo motivo, vi consigliamo le seguenti creme naturali. 1. Aloe vera L'aloe vera occupa il primo posto tra i trattamenti naturali per la psoriasi. Il gel di aloe vera possiede molte proprietà, è ad esempio, antinfiammatoria e rinfrescante, cosa utile quando si avverte prurito intenso. Per evitare di grattarvi e ferire la pelle, vi consigliamo di applicare un po' di questo gel diverse volte al giorno. Conservatelo in frigo, il freddo aumenta la sensazione di sollievo. Tenete sempre una pianta di aloe vera in casa e tagliate una foglia al bisogno. 2. Zucca amara Questo ortaggio offre molti benefici per la salute. È utile, in questo caso, perché rafforza il sistema immunitario, fondamentale per chi soffre di psoriasi, e riduce l'infiammazione. Inoltre, potete utilizzarla per preparare un impacco naturale per la pelle. Merita la pena provarla. È sufficiente far bollire la zucca sbucciata e tagliata a fette e poi realizzare un purè una volta tiepido o a temperatura ambiente. Applicatelo sulle macchie della psoriasi e lasciate agire per circa 20 minuti prima di rimuovere con acqua tiepida. 3. Banana Possiamo usare la buccia di banana e strofinare la parte interna sulle lesioni provocate dalla psoriasi oppure realizzare una crema schiacciando la banana con una forchetta. Questo impasto dovrà poi essere applicato sulla pelle da trattare e bisognerà lasciarlo agire per circa 15 minuti. Trascorso questo periodo si sciacqua con acqua tiepida. 4. Bicarbonato di sodio Serve per alleviare il prurito ed esfoliare la pelle. Bisogna fare molta attenzione a non applicarlo con troppa energia perché potrebbe provocare irritazione. Ingredienti 3 cucchiai di bicarbonato di sodio 30 g 1 barra 4 di tazza d'acqua 60 ml Preparazione in un recipiente Collocate il bicarbonato e mettete un po' d'acqua, meglio se a temperatura ambiente. Formate un impasto da applicare con attenzione sulla porzione di pelle da trattare. Lasciate agire per circa 30 minuti, se brucia ritiratelo prima, e sciacquate con acqua. Asciugate la pelle tamponandola con un asciugamano di cotone. 5. Peperoncino Questa spezia, usata per dare sapore piccante ai nostri piatti, può essere di grande utilità per trattare la psoriasi. Contiene un principio attivo chiamato capsaicina che riduce il dolore perché inibisce le terminazioni nervose. In questo caso, riduce anche l'infiammazione, l'arrossamento e la desquamazione. Potete trovare l'estratto di peperoncino nei negozi di prodotti naturali e realizzare un impasto aggiungendo un po' d'acqua, oppure potete triturare un peperoncino rosso in un mortaio e ottenere lo stesso prodotto una volta mescolato con acqua. Applicate poi nella zona da trattare e lasciate agire per circa 10 minuti. 6. Semi di lino I semi di lino contengono oli essenziali dal grande potere antinfiammatorio. Potete usarli per preparare un unguento o una crema in grado di trattare la psoriasi molto efficacemente. Ingredienti 2 cucchiai di semi di lino 20 g 1 barra 4 di tazza d'acqua 60 ml Preparazione Schiacciate accuratamente i semi in un mortaio, fino a ridurli in polvere. Potete anche usare la farina di semi di lino per evitare questo passaggio. Aggiungete poco a poco dell'acqua a formare un impasto omogeneo. Applicate sulle macchie della psoriasi e lasciate agire per circa 15 minuti. Rimuovete con acqua tiepida. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.